Alleluia! 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 Il Signore si manifestò per creare il mondo, la parola del Signore era luce di fulsi e nelle tenebre, ecco la prima notte. Alleluia! 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 Il Signore si manifestò ad Abramo, Isacco il figlio amato fu offerto in sacrificio, ecco la seconda notte. Alleluia! 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 Il Signore si manifestò agli egiziani, la sua destra protesse i primogeniti di Israele, ecco la terza notte. Alleluia! 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 Alleluia!